Nuovo brevetto per Spotify. Amici ma soprattutto amiche di SOS4D, oggi parliamo di questo brevetto sulle parole, lyrics di Spotify. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere. Spotify ha brevettato con successo una funzione chiamata Spoken Word Analyzer, cioè analizzatore di parole parlate, sarebbe tradotto, che genera tag e indicatori per una serie di tracce. È una funzione basata sulla intelligenza artificiale progettata per analizzare e classificare le canzoni in base ai loro testi e alle caratteristiche tecniche. Spotify ha presentato questa domanda di brevetto il 26 agosto di quest'anno e secondo il database dell'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti questa domanda è stata approvata il 17 dicembre, quindi da adesso è operativa. La descrizione del brevetto che si estende a 20.000 parole ruota attorno a una funzione digitale che valuta una globalità di tracce e quindi individua argomenti che riassumono i testi delle opere, cioè i tag sulla base di una raccolta di parole chiavi e frasi predeterminate che consentirebbe agli utenti di trovare canzoni che si adattano al loro umore, alle loro preferenze. Il brevetto enfatizza più filtri progettati per identificare i testi espliciti. Che Spotify ci studiasse non lo scopriamo certo ora, basta andare a vedere le playlist che genera per noi, basta vedere come sono costruite in base ai nostri ascolti e alle nostre abitudini. Vedete che ho ascoltato Tears for Fears. Ultimamente abbiamo parlato dell'album della Lidl ed eccoli qua, tutte le cose ricercate. Reggae che io ascolto molto reggae, quindi ci ascoltano. Insomma, siamo nel grande fratello musicale e quando sento parlare di privacy violata, soprattutto su Immuni se ne parla moltissimo in questo periodo, mi viene da ridere pensando quanti nostri dati abbiamo già dato in questi ultimi 10-15 anni in pasto alle grandi aziende semplicemente attivando un telefonino o iscrivendosi a tutti i social e ai siti gratuiti. Ricordatevi sempre che quando una roba è gratuita c'è sempre qualcosa dietro. Le tracce hanno storicamente i loro tag assegnati in base all'input che li mette l'utente. Ogni utente che carica una traccia di Spotify ci mette i propri tag mettendo elettronico, dance, tutto quello che vuole, ma spesso facendo l'over tag, mettendo più tag di quelli reali. In questo caso Spotify cercherebbe di standardizzare e automatizzare questa pratica. Sebbene i tag automatici siano attualmente soggetti ad imprecisione, Spotify è incentivata a trovare un'efficienza operativa nel processo a causa dell'enorme volume di contenuti che gli arrivano sulla piattaforma. Si parla di addirittura 309.000 tracce ogni settimana, quindi ogni settimana a questo colosso di musica arrivano 300.000 nuove tracce caricate dagli utenti e dalle case discografiche. La funzione dello Spoken Word Analyzer sembra un'espansione logica dato il recente sviluppo della piattaforma di ricerca basata sui testi. Un sistema di tagging superiore consentirà agli utenti di cercare e scoprire contenuti più adatti, pertinenti in base ai loro umori e preferenze stilistiche. Spotify sta continuando ad innovare sempre di più con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ed ha depositato pure un brevetto per caratterizzare le canzoni in base alle loro metriche di nostalgia, così le chiamano all'inizio di quest'anno. Più recentemente la società ha annunciato che sta fornendo un sistema di rilevamento del plagio sempre basato sull'intelligenza artificiale come nuova risorsa per i cantautori. Quindi occhio che siamo ben schedati da Spotify. Parliamo dei corsi per DJ, corsi di produzione musicale. Potete fare tutto online contattandomi nella sezione contact, compilando il form per tutti quelli che iniziano, per tutti quelli che sono a metà o quelli che vogliono fare il salto di qualità che sono già bravi, sia per i corsi DJ che il corso di produzione musicale. Potete contattarmi anche tramite Facebook. Facebook lo trovate all'interno di ogni video, c'è la pagina Facebook, contattatemi in privato, mi raccomando. Oltre alla pagina Facebook troverete la pagina Instagram, mettete un bel like e la pagina Telegram con tutti i contenuti extra che metto, tutte le cianfrusaglie giornaliere, i fuori onda e tutta la nostra community. Se vuoi è gratis iscriviti. È gratis pure il canale YouTube, mi raccomando l'iscrizione qua dove vedete il rettangolino rosso, iscriviti per farci crescere perché se cresciamo noi crescerete anche voi perché avrete sempre di più a disposizione materiale per imparare. Attivate la campanella, mettete un bel like se vi è piaciuto questo video e condividetelo con i vostri amici sui social se pensate che possa essere loro utile. Inoltre sostieni SOS4DJ se vuoi perorare la nostra causa, darci una mano, stringercela e dirgli toh, un caffè te lo meriti perché mi hai fatto imparare questo tramite il tasto PayPal. Spotify ci spia e non solo Spotify, ci spiano tutti i social perché i nostri dati quando li andiamo a mettere durante l'iscrizione vanno nel database del grande fratello mondiale. Quindi sanno tutto e più della nostra vita e poi siamo noi a incentivarli perché quando sei lì col telefono e ti tagghi mentre mangi al ristorante, ti tagghi mentre sei in vacanza, ti tagghi con gli amici, sei in giro, sanno dove sei, oggi vado in vacanza sette giorni, ho la casa libera, per fortuna che non sono ladri perché altrimenti sono ladri ma di identità e poi neanche tanto ladri perché siamo noi a dargliele. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo brevetto di Spotify, io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, mi raccomando iscrivetevi al canale, molto molto importante e ricordatevi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio, piripiripi!